Salve raga, probabilmente questo video vi starete domandando perché l'ho postato sul mio primo canale nel senso è uno di quei tipici video commentari delle bad wars e voi direste beh quelli io sono solito postarli sul mio secondo canale sì però questo è un po' diverso dalla norma quindi ho pensato che sarebbe più importante postarlo sul mio primo canale soprattutto perché è più importante che più persone lo vedano questo video perché parlerò di cose abbastanza importanti riguardanti il futuro di questo canale e quindi ci tengo innanzitutto volevo scusarmi per la recente inattività sul canale se notate è da 10 passaggiorni che io non posto short sul canale quando prima avevo l'abitudine di postare circa uno short ogni tre giorni questa cosa è semplicemente legata alla scuola al fatto che nell'ultimo periodo sono molto impegnato e quindi non sono riuscito a postare short però insomma spero di ricominciare a postare presto anche nell'immediatezza l'unica cosa devo un attimo vedere con la scuola come sono messe le cose riuscirò a postare il video di Halloween dello speciale di Halloween quello sì fortunatamente uscirà forse è già uscito se state probabilmente vedendo questo video dopo Halloween comunque al di là di questo io volevo parlarvi di alcune cose riguardanti il canale allora innanzitutto vorrei fare alcuni cambiamenti a portare alcune modifiche dal punto di vista dei video stessi ci sono alcuni video su questo canale che oramai sono un po' vecchi ma più che vecchi sono un po' scrausi rispetto alla media del video che posto ora diciamo essendo che ho questo canale da qualche mese ed è il primo anno che sono su YouTube diciamo che ho fatto alcuni video che adesso preferirei che non ci fossero più quindi li metterò privati un giorno potrei farci magari tra un annetto potrei fare una reaction a quei vecchi video però diciamo che per ora verranno messi privati proprio perché voglio avere il canale diciamo più pulito di video belli, buoni e un'altra tipologia di video che vorrei rimuovere sono i video delle compilation di shorts io fino a qualche mese fa avevo l'abitudine di ogni mese postare che? ogni mese avevo l'abitudine di postare un video chiamato compilation best of e poi il mese dove sostanzialmente erano contenute tutte le shorts che avevo postato in quel mese ecco una cosa che noterete sicuramente è che in pvp sono peggiorato rispetto a prima perché con la scuola sono abbastanza impegnato e non ho fatto neanche in tempo tanto a giocare a minecraft in sé e questi video come noterete io già da qualche mese ho smesso di postarli e ho intenzione però diciamo non ho la certezza però molto probabilmente io eliminerò quelli che ho già fatto al massimo io farò ogni anno magari una compilation di delle clip migliori dai video e dalle live fatte in quell'anno ovviamente le clip io le posterò come già faccio sul mio secondo canale anche se anche quello di recente è un po' inattivo però sì a proposito di live mi sto un attimo concentrando di più sulle live infatti se vedete su twitch ne sto facendo un pochetto nell'ultimo periodo e ho intenzione anche di apportare alcune modifiche ai contenuti in generale che porto sul canale come sapete minecraft è il gioco principale che io porto sul canale e ho portato veramente poco di altri contenuti ho portato un paio di short su roblox dove magari parlo di notizie di roblox ho portato un video su roblox di gameplay però al di là di quello ho fatto una short dove reactavo a un'animazione però al di là di quello non ho postato molto e una delle cose che avrei in mente è quella di appunto applicare un po' fare una curva ai contenuti in generale ovviamente non dico che non porterò più minecraft sul canale ci mancherebbe altro io questo canale l'ho cresciuto con minecraft però ho intenzione di portare anche altri videogiochi e in realtà cioè come avrete notato già un po' di tempo fa io feci un sondaggio chiedendo raga preferireste vedermi portare altri contenuti su questo canale esempio reaction feci un post apposito sulle reaction e mi sembra adesso che la maggior parte dei voti fosse sul sì ovviamente l'ho già detto e ribadisco minecraft sarà sempre la tematica principale di questo canale e questa cosa rimarrà invariata a questo proposito a dei giochi nuovi da portare sul canale mi era venuta una specifica da farvi quindi io per mesi ho avuto dei problemi con la memoria nel computer nel senso che avevo sempre poco spazio disponibile sull'hard disk e dovevo sempre stare attento a quello che registravo a quello che scaricavo di recente sono riuscito a risolvere il problema e adesso ho un terabyte di memoria quindi scaricherò nuovi giochi perché ne ho lo spazio ma scaricherò anche alcune app generali per migliorare anche la qualità dei miei video infatti scaricherò after effects e cercherò di imparare ad usarlo assieme anche a dei software di grafica voglio imparare a fare i render e cose del genere ovviamente non prendete questa cosa per oro colato perché è soltanto un proposito un'altra cosa raga che ci tengo a dire è che prima che io smettessi di postare ho avuto una crescita abbastanza veloce su youtube infatti in poco tempo sono arrivato da 700 iscritti a 840 quindi volevo ringraziare tutto il vostro supporto che ho avuto in quel periodo però sempre a questo proposito volevo dire che essendo che mi sto avvicinando sempre di più ai 1000 iscritti sarebbe anche il momento di parlare un po' di questi 1000 iscritti allora io avrei già in mente una cosa e ci sto già lavorando e i lavori procedono bene vi dico solo questo è una sorpresa quindi non ho intenzione di spoilerarvi un bel niente vi dico solo che una cosa secondaria che mi mi metti di fare è fare un trailer per il mio canale al raggiungimento dei 1000 iscritti non so bene come sarà questo trailer ma vedrò e io sempre a riguardo vorrei cominciare a portare dei contenuti che sono come dire sono più vicini alla mia community io ho un server discord ok però vi dico la verità questo server discord non è molto attivo e diciamo che ci sto lavorando per riportare attività nel server discord vorrei portare dei contenuti che hanno più a che fare con questa community tipo non lo so faccio una live su twitch all'interno della quale gioco con gli iscritti una cosa del genere oppure una short con i meme del mio server discord delle cose del genere in modo da coinvolgere la mia community nei contenuti che porto e cioè il video raga questo era tutto per il video ho parlato un po' di diverse cose diversi argomenti però secondo me era necessario fare il video che è stato un po' di più